Bene ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca proprio con il primo servizio. E' salito sul tetto dell'ospedale e poi si è chiuso in casa dopo aver aperto il gas un trentenne di concorda sagittaria e salvo grazie ai carabinieri. Nella tarda mattinata di domenica scorsa ai carabinieri di Portoguaro è arrivata la segnalazione della presenza di un uomo che stava passeggiando inspiegabilmente sul tetto dell'ospedale civile. L'uomo era al telefono, sembrava discutere animatamente, di sicuro era in una posizione pericolosissima tanto che aveva scavalcato il parapetto di sicurezza sul tetto del Sant'Omaso dei Battuti mentre stava camminando sul piccolo cornicione. All'arrivo della radiomobile il trentenne era già sceso dalle scale antincendio allontanandosi a bordo di una Fiat Punto. Alcuni passanti lo hanno segnalato agli investigatori che attraverso il numero di targa sono risaliti al padre del trentenne. Non è stato però facile trovarlo con lo stesso genitore che era convinto che il figlio si trovasse in montagna. Tuttavia i carabinieri diretti dal Maggiore Michele Raghi non si sono dati per vinti sono arrivati a casa della giovane trovando però tutte le imposte chiuse e senza ricevere alcuna risposta dall'interno. La vettura lì di fronte però era stata da pochissimo parcheggiata inoltre dall'interno c'erano dei rumori, forse dei lamenti. I carabinieri hanno trovato sotto lo zerbino da entrata le chiavi di casa della Fiat Punto sono così entrati nell'appartamento sentendo subito un fortissimo odore di gas e con il 39enne esanime con a fianco una bombola aperta. Arieggiati i locali il giovane non dava però segni di vita e così i carabinieri hanno avviato le manovre di rianimazione. Poco dopo sono stati raggiunti anche dai sanitari del SUEM. Il giovane è stato trasferito in ospedale dove è stato trattenuto per accertamenti ma fortunatamente non è in pericolo di vita. ha poi raccontato ai militari di vivere un momento difficile per una contrastata vicenda sentimentale che da poco si è conclusa. I genitori hanno voluto ringraziare personalmente i carabinieri che hanno salvato la vita al loro figlio. Siamo con il direttore della Pindustria di Venezia e non solo da quello che si vede poi come si muove Nicola Zanon, noi ci conosciamo bene perché come Media24 lo lavoriamo abbastanza con voi. Ecco, voi l'11 di ottobre qui a Portuguaro fate un convegno dal titolo imprenditori ribelli, se ricordo bene. In cosa consiste? Perché ribelli? Ribelli perché portiamo a testimonianza alcuni imprenditori del nostro territorio che negli anni difficili della crisi posto del 2008 sono riusciti a rivoluzionare le loro aziende e il loro modo di approcciarsi ai mercati vincendo queste sfide e quindi sono degli esempi positivi che vogliamo portare alla luce che siano esempio anche per altri imprenditori che nei momenti di difficoltà possono trarre spunto proprio perché vogliamo far capire che di fronte alle difficoltà l'imprenditore è in grado di tirare fuori quegli elementi, quelle capacità nascoste che gli permettono di fare la differenza e quindi questo convegno ha proprio questo scopo verrà ospitato presso la Sport Arredo Group di Gruaro ed è uno proprio dei casi studio in quanto è un'impresa che negli anni difficili è fallita un gruppo di dipendenti ha riscattato le proprie aspettanze economiche come il TFR e ha dato vita ad una cooperativa che ha rilevato il ramo d'azienda e adesso sta crescendo sui mercati ottenendo ottimi risultati Ecco, potrei partecipare a questo convegno? È un convegno gratuito aperto anche ai non iscritti proprio con la volontà di relazionarsi con tutto il mondo imprenditoriale c'è la possibilità di registrarsi sul nostro sito e presso la nostra pagina Facebook Capindustria Venezia e quindi benvenga la partecipazione anche di coloro che non ci conoscono e che vogliono cogliere l'occasione per vedere l'associazione come lavora e come si pone L'orario? L'orario sono alle 17.30 durerà un'ora e mezzo poi ci sarà la possibilità di relazionarsi con i relatori, con gli speaker al termine con un aperitivo È una scuola da tenersi stretta a tutti i costi perché nonostante i cronici problemi di spazio funziona bene e collabora attivamente con la città la mancanza di spazi è una questione che va avanti da anni al liceo alloggiato in un'aula del complesso delle medie a Malteo Per superare questa carenza in questi giorni sono stati avviati i lavori di riorganizzazione interna ottimizzando l'esistente abbattendo delle pareti alzandone delle altre verranno ricavate tre nuove aule due, spiega il vice sindaco Vincenzo Artico saranno destinate al liceo Scarpa uno invece servirà per la scuola media nel corso del tempo la carenza di aule è stata più volte oggetto di discussione tanto che i docenti avevano addirittura rinunciato alla sala insegnanti per liberare spazi da destinare alla didattica un limite che dovrebbe essere superato il prossimo anno è infatti arrivato il contributo da parte del ministero di 3 milioni e 200 mila euro che servirà per la messa in sicurezza del complesso scolastico per quel che riguarda l'antisismica con l'occasione verrà pure attuata una riorganizzazione complessiva per migliorare l'attuale disposizione delle aule nel frattempo tra giovedì e venerdì saranno in corso i lavori per avere appunto le tre nuove aule sia in questi due giorni dovedì che venerdì dato che lato nord dell'istituto verrà posizionato un cassone scarrabile è fatto di vieto di parcheggiare nell'area il liceo classico Scarpa funziona bene collabora con la città è presente tra le iniziative della fondazione Oderso Cultura e dà prestigio al comparto formativo Pietergino non la vogliamo assolutamente perdere detto il sindaco Maria Scartellato nel corso del tuo discorso pronunciato la mattina dell'esercitazione di protezione civile promossa dall'associazione Carabinieri di Oderso la sindaca fuga subito ogni dubbio nessuno vuole portare via il liceo da Oderso le sue parole sono state dette per esprimere l'apprezzamento che la città nutre nei confronti del liceo quella mattina è stato presentato un nuovo dirigente scolastico dell'istituto Antonio Scarpa il professor Michele Giannini la dirigente Liviana D'Are è tornata a dirigere un istituto coniglianese passando appunto il testimone il professor Giannini è una persona giovane e molto preparata ha ribadito Liviana D'Are il mio è stato un apprezzamento verso quella scuola evidenzia il sindaco mi sono sempre sembrati molto bravi sia da quando in campagna elettorale ci hanno invitato per un confronto mi è sembrato giusto dirlo al nuovo dirigente Fabiano Barbisan consigliere regionale del Veneto portoguarese oggi alla presentazione di un libro per i cent'anni dell'associazione Calcio Portoguaro durante il saluto che le ha portato per la regione ha presentato per sommi capi il documento approvato dalla regione Veneto in merito al rapporto e al razzismo che sta purtroppo sempre più diventando un qualcosa ecco di difficile da poter accettare sul piano sportivo soprattutto in previsione anche delle Olimpiadi del Veneto può dirci qualcosa in merito a questo documento? Beh sì assieme appunto ai colleghi del gruppo del quale faccio parte centro-destra Veneto quindi Stefano Casali e Andrea Bassi abbiamo pensato e scritto e sottoscritto una mozione dove appunto impegniamo la regione a rendersi parte attiva a cercare di sensibilizzare tutte le istituzioni anche più in su e soprattutto quelle sportive e soprattutto che escono dei documenti di un po' di pubblicità di fare enunciazioni forti sul fatto che non ci siano degli interventi che abbiano uno sfondo razzista nello sport anche e soprattutto in vista delle nostre Olimpiadi cioè noi abbiamo portato a casa le Olimpiadi e ho ricordato che nel 1972 in occasione delle Olimpiadi di Monaco c'è stato un fatto di sangue che ancora ci si ricorda dove gli atleti sono stati macellati uccisi per un'ideologia religiosa economica da altri gruppi di fanatici che sono arrivati appunto a far questo non possiamo dimenticare nelle ultime appunto attività sportive il giudocca che non ha potuto vincere poteva vincere perché il suo governo gli ha detto di perdere non possiamo dimenticare appunto quell'atleta che non ha stretto la mano a un altro atleta perché faceva parte appunto di un'altra etnia quindi lo sport non può arrivare a questo nel passato si fermavano le guerre per svolgere attività sportive sì cioè era una cosa più sentita come un qualcosa di superlativo e di soprattutto e tutti per sostenere il presidente del consiglio d'amministrazione Giovanni Carrer circa un mese fa il consigliere di minoranza Luca Antelmo inviò una lettera ai rappresentanti delle principali associazioni sindacali chiedendo loro un incontro per discutere di detenzioni in atto denunciate da alcuni addetti ad azienda speciale Don Moschetta sorte tra loro e il management dell'ente istituto del comune di Caorle per gestire una serie di servizi tra cui l'omonima casa di riposo il campeggio comunale il mercato ittico i parcheggi a pagamento e la cura del verde pubblico la questione tenne banco per alcuni giorni con una nota il comune di Caorle ha però comunicato che la quasi totalità di dipendenti della casa di riposo ha sottoscritto una petizione a sostegno del presidente del CDA Giovanni Carrer e dei consiglieri in una lettera inviata dai dipendenti al sindaco Luciano Strioli si legge che è grazie al presidente Giovanni Carrer che noi dipendenti ci sentiamo stimati e valorizzati nel nostro ruolo sulla vicenda ha intervenuto direttamente anche il sindaco Strioli il presidente del consiglio di amministrazione in questi anni hanno fatto crescere la qualità sia della struttura che del servizio rivolto ai nostri ospiti sapendo gestire e valorizzare al meglio le risorse umane ciò è stato riconosciuto dai dipendenti che con questa raccolta firme hanno dimostrato una chiara presa di posizione a favore della gestione gli scatti dal territorio arrivano con Vinicio Scortegagna c'è Foto Reporter grazie a Vinicio Scortegagna a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale ci fermiamo qui con questa edizione vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24 con i nostri live e i nostri servizi vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e a risentirci alla prossima